L'esperienza con matrimonio travolgente è stata fantastica, noi ancora oggi non abbiamo parole per tutto quello che è successo nella giornata di ieri, soprattutto dopo questo periodo pieno di restrizioni in cui abbiamo visto veramente la nostra vita cambiare dall'oggi a domani. Che ci hanno privato quasi di tutto. Noi avevamo dato per scontato che ieri non sarebbe successo niente di quello che è accaduto, perché comunque abbiamo detto che la gente viene con la paura, magari non si crea l'atmosfera giusta e il nostro matrimonio poteva essere un flop. E invece no. E invece non è stato così, grazie al metodo di matrimonio travolgente, perché veramente ci ha travolti tutti. Dai più piccoli ai più anziani. Noi abbiamo visto le persone che di solito stanno lì, si siedono in disparte. Io li ho visti travolti nella festa. Abbiamo fatto un ingresso stratosferico. Cioè la gente era impazzita. Cioè la mio padre è impazzito. Anche il fatto dei palloncini. Io all'inizio ero molto titubante. Palloncini, un matrimonio, mai vista come cosa, chissà funziona o non funziona. E invece vedere i mezzi, tutti gli invitati coinvolti. Ma soprattutto gli anziani, non parliamo dei ragazzi. Io ho visto più anziani scatenarsi perché dai giovani ci si aspetta. Giustamente poi vedi anche i sorrisi degli invitati, vedi che si stanno divertendo. Sudati. Indimenticabile. Un'esperienza travolgente.